Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. In questo primo video della serie dedicata all'educazione finanziaria cominciamo a parlare del meccanismo con cui si forma il prezzo dei beni e dei servizi che compriamo o vendiamo, cioè la legge della domanda e dell'offerta. Siccome stiamo partendo dai fondamentali, è bene innanzitutto dire che il prezzo è un numero, che ha senso solo se è riferito ad una certa unità di misura, un'unità monetaria, quindi una valuta, sia essa l'euro, il dollaro o il remminbi, e rappresenta il valore di scambio di un certo oggetto o di una prestazione o di un servizio. Filosoficamente parlando, assegnare un prezzo a qualcosa è un accordo sociale e non necessariamente il prezzo di qualcosa riflette il suo valore intrinseco. Ed è per questo motivo che quando si parla di prezzo si dice che il prezzo si forma dall'incontro tra la domanda e l'offerta, come vedremo tra pochissimo. E quindi ha senso assegnare un prezzo a qualcosa solo se quel qualcosa può essere effettivamente scambiato in cambio di denaro, appunto. Per restare concreti, in questo video utilizzeremo come esempio di bene scambiato il gas naturale, con cui abbiamo avuto moltissimo a che fare in quest'ultimo anno e mezzo, osservando come dall'inizio della guerra russa in Ucraina il prezzo del gas sia prima aumentato di molto e poi invece sia pian piano diminuito. Qual è il meccanismo dietro a questa variazione di prezzo? In qualunque mercato, come nel mercato del gas naturale che stiamo considerando qui, ci sono due soggetti principalmente, soggetti plurali, coloro i quali vendono il gas naturale e coloro i quali vogliono comprare il gas naturale, che vengono chiamati l'offerta e la domanda. I compratori vorranno comprare una certa quantità di gas naturale, che viene chiamata la quantità domandata, mentre invece i venditori vorranno vendere una certa quantità di gas naturale, che viene chiamata la quantità offerta. A quanto ammonta la quantità domandata e la quantità offerta dipende ovviamente dal prezzo e per capire come ci dipenda ci serve lo strumento fondamentale dell'economia, ma che è anche lo strumento fondamentale di tutte le scienze, cioè la matematica. Ma non vi preoccupate, non voglio addentrarmi in calcoli o numeri, in realtà quello che ci basta è capire e leggere un grafico. Il primo grafico che considereremo è la cosiddetta curva della domanda, che ci dice quanto i compratori di gas naturale siano disposti a comprare in base al prezzo del gas naturale. Qui c'è una cosa molto importante da dire che mi ha confuso fin dalla prima volta in cui ho studiato economia in collegio. Cioè, quando disegniamo un grafico come questo qui, noi scienziati, io sono un fisico, ma in generale chiunque usi la matematica, mettiamo sull'asse orizzontale, cioè questo asse qui, la variabile x di solito, cioè quella indipendente, quella che noi possiamo cambiare liberamente e poi andare a vedere quale sarà il valore invece della variabile dipendente, la y, appunto si chiamano anche assi delle x e assi delle y, delle ascisse o delle ordinate. Nel caso però dei grafici della curva della domanda e poi vedremo la curva dell'offerta, quello che si fa però è il contrario, cioè vengono messi i prezzi, che sono la variabile indipendente, sull'asse verticale e la quantità domandata, nel caso della domanda o offerta, nel caso della curva dell'offerta, sull'asse orizzontale. In descrizione vi lascio un link di una possibile spiegazione del perché di questa convenzione. Per leggere questa curva, quindi, noi dobbiamo domandarci quale sarà una certa quantità domandata in funzione del suo prezzo e la legge della domanda ci dice sostanzialmente che la curva della domanda ha questa forma qui, ovvero sia se noi fissiamo un prezzo otteniamo la quantità domandata e se il prezzo è più basso otterremo, vedete che sta qui, è più in basso, otterremo una quantità domandata maggiore, ok? Quindi la curva della domanda è una curva decrescente, fissato il prezzo, a prezzo maggiore corrisponde una quantità domandata minore e a prezzo minore corrisponde una quantità domandata maggiore. Lo stesso possiamo fare per un'altra curva, che è la curva dell'offerta, quindi ridisegniamo il grafico, qui in questo caso Q sarà la quantità offerta, lo facciamo in blu, e la legge dell'offerta invece funziona al contrario, è una curva crescente, cioè ci dice dato un certo prezzo otteniamo qui una certa quantità offerta, ok? E se il prezzo è maggiore la quantità offerta è maggiore. Questo perché intuitivamente possiamo spiegarcelo dicendo che i produttori, se possono vendere le loro cose a un prezzo maggiore, tenderanno a produrne di più. Quindi domanda e offerta, una decrescente, l'altra crescente, in questi grafici in cui la variabile indipendente sta sull'asse verticale. La legge della domanda, che è un principio dell'economia, dice che a parità di tutte le altre condizioni, e quindi nell'eventualità che solo il prezzo cambi, ad un prezzo maggiore corrisponde una quantità domandata inferiore e ad un prezzo minore corrisponde una quantità domandata maggiore. Viceversa per la legge dell'offerta. Ma non è finita qui, perché tutti intuitivamente abbiamo l'idea che in un giorno di pioggia saremmo disposti a pagare di più, e anzi pagheremo di più, gli ombrelli che ci vengono offerti dai venditori per strada. Sembra che non siamo stati abbastanza previdenti da portarcene uno dietro. Ma aspetta, se prendiamo il grafico della domanda che abbiamo considerato prima potremmo pensare che, visto che c'è una quantità domandata maggiore, in realtà il prezzo dovrebbe essere minore, no? Ecco l'inghippo. E se capite questa cosa, il primo video di questa serie avrà pienamente raggiunto il suo scopo. La legge della domanda suppone, infatti, che tutte le altre condizioni siano invariate. Ma qui ovviamente le condizioni sono diverse, perché sta piovendo. E quindi quello che succede non è che dobbiamo andare a vedere la quantità domandata in funzione del prezzo su questa curva della domanda, perché questa curva della domanda si sarà spostata, in questo caso orizzontalmente, in virtù del cambiamento di condizioni esterne, il fatto che appunto stia piovendo. Spostare tutta la curva di domanda non è la stessa cosa che leggere la quantità domandata in funzione del suo prezzo. Anche se spesso quando si legge sui giornali che la domanda è aumentata, non è sempre chiaro a quale delle due dinamiche si sta facendo riferimento, se leggere sulla curva oppure spostare tutta la curva. Questo però ancora non basta per capire perché il prezzo aumenti. Per capirlo dobbiamo mettere i due grafici di domanda ed offerta sugli stessi assi cartesiani. Ora arriviamo al punto. Il prezzo è dato dal punto d'incontro tra la domanda e l'offerta e cioè è determinato e il suo valore è tale per cui la curva della domanda e la curva dell'offerta si intersecano, cioè quando la quantità domandata e la quantità offerta sono uguali e quindi nel mercato tutti gli scambi possono avvenire e si dice che il mercato è in equilibrio. Idealmente un mercato in equilibrio tenderà a rimanere in equilibrio perché se il prezzo si spostasse aumentando allora si creerà un surplus di gas naturale e i produttori di gas naturale che sono desiderosi di vendere tutta la loro quantità offerta tenderanno ad abbassarne il prezzo in modo tale da riuscire a vendere questo surplus e al contrario se il prezzo diminuisce ci sarà una carenza di gas naturale e quindi i compratori che hanno necessità di comprare gas naturale saranno disposti anche a pagarlo di più pur di assicurarselo facendo quindi rispostare il prezzo in direzione dell'equilibrio. Nel caso degli ombrelli venduti durante una giornata piovosa adesso possiamo capire perché se spostiamo la curva della domanda verso destra il nuovo punto di incontro tra la domanda e l'offerta sarà un pochino più alto vedete qui l'intersezione quindi questo farà sì che il prezzo aumenterà ma aumenterà anche la quantità allo stesso tempo domandata e offerta quindi la quantità totale di ombrelli che vengono scambiati. I motivi per cui la curva della domanda e la curva dell'offerta si possono spostare sono vari ci possono essere per esempio cambiamenti nei prezzi di altri beni o servizi che sono ad essi complementari o sostituti quindi mercati che si influenzano a vicenda oppure ci può essere un incremento dei salari oppure un cambiamento di tecnologia o un aumento nel numero dei produttori. In generale tutte queste varie dinamiche sono appunto l'oggetto di studio degli economisti. Nel caso del gas naturale abbiamo visto che quello che è successo è che subito dopo lo scoppio della guerra russa in Ucraina l'offerta di gas anche dovuto al fatto che l'Unione Europea ha imposto delle sanzioni è diminuita quindi la curva si è spostata verso sinistra e i prezzi sono aumentati. Successivamente man mano che l'Unione Europea e i vari paesi trovano nuovi venditori di gas naturale e allo stesso tempo anche riducevano i loro consumi sia la curva della domanda che la curva dell'offerta si sono spostate perché possono spostarsi anche allo stesso tempo raggiungendo quindi un nuovo equilibrio che ha portato alla fine dei conti il prezzo allo stesso valore più o meno che aveva prima dello scoppio della guerra. Con questa legge fondamentale dell'economia abbiamo quindi capito quale sia il meccanismo con cui si formano i prezzi. C'è ovviamente una nota importante da fare tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video si applica solo nel caso in cui il mercato che consideriamo sia un mercato competitivo. Competitivo significa che ci sono molti compratori e venditori e nessuno di loro da solo o anche mettendosi d'accordo con altri riesce a modificare o alterare in maniera significativa il prezzo a cui vengono scambiati bene i servizi. Ovviamente esistono anche mercati non competitivi in cui questo modello non è necessariamente vero e anche qui è compito degli economisti studiarli e sviluppare altri modelli che ovviamente per questa serie non ci interessano. E quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo primo video della serie dedicata all'educazione finanziaria. Come avevo già chiesto nel trailer vi chiedo di condividerlo con più persone possibile e ovviamente vi aspetto nei commenti se avete commenti o se avete domande o desiderate saperne di più o anche pareri o anche critiche, chi lo sa. Noi ci vediamo al prossimo video.